Da un lato bisogna preservare questo elemento importante della nostra terra che è anche una grande componente dell'attrazione turistica per le nostre aree protette. Dall'altro lato bisogna rassicurare le persone che possono incorrere in dei disagi significativi e bisogna mettere in piedi una serie di attività che sono stabilite in questo protocollo. La prima è la costruzione di un coordinamento tra tutti i parchi e tra tutti gli enti preposti, anche militari, alla salvaguardia dell'ingolumità dei cittadini di cui si mette a capo la regione Abruzzo. La seconda è che bisogna avere un dato preciso dei posti appetibili per gli orsi, lì bisogna introdurre tutti gli elementi di protezione che vanno dai ricinti, porte, elementi che servono a impedire l'ingresso dell'orso. La terza questione è lavorare seguendo l'operato degli orsi a far sì che quando si avvicinano troppi negli abitati vengono distratti con interventi che possono essere fatti dagli operatori del territorio e anche dalle forze militari. Tutto questo comporta risorse di disponibilità e noi abbiamo messo a disposizione una importante quota di risorse che abbiamo con la legge 15. Il protocollo di oggi dimostra che la regione Abruzzo entra un po' più in campo nella gestione di questa problematica attraverso un accordo con i parchi e con i carabinieri forestali per affrontare le situazioni che si pongono fuori dai territori delle aree protette. Perché giustamente i cittadini, e questo è uno dei problemi nella gestione dell'orso, non capiscono quando c'è un danno immediatamente fuori dal parco, 100 metri più in là il parco interviene, internizza i danni, fa le azioni gestionali necessarie e fuori dal parco i cittadini si sentono in qualche modo spesso abbandonati e lasciati a loro stessi. Noi dobbiamo evitare che questo accada, dobbiamo evitare che nei confronti dell'orso si produca un sentimento di ostilità, il nostro orso è sostanzialmente docile e pacifico e quindi però dobbiamo mettere in campo le azioni per assicurare i cittadini là dove è necessario.